A Teramo un incontro in provincia tra gli amministratori dell'ente, i dirigenti, i consigli di istituto e consulta degli studenti in vista della riapertura dell'anno scolastico. Un incontro fortemente voluto dal presidente Diego di Buonaventura e dal consigliere delegato all'edilizia scolastica Enio Pavone. Nel corso della riunione è stato presentato il piano di investimenti sui poli scolastici dell'intero territorio provinciale, oltre ad aver fatto il punto sui lavori in corso e su quelli già conclusi e realizzati durante l'estate per recuperare nuove aule sulla base delle indicazioni pervenute dalle stesse scuole. Ringrazio veramente gli uffici, i dirigenti e tutti quelli che in questi tre anni e mezzo hanno creduto al coraggio delle scelte. Abbiamo ristrutturato gli uffici e oggi abbiamo condiviso la programmazione che avevamo pensato qualche anno fa e quest'anno abbiamo avuto meno problemi del solito. Sapete tutti con una ricostruzione che sta partendo adesso in parallelo, però abbiamo mitigato tutti i disagi che avevamo gli altri anni. Non so se vi ricordate gli altri anni, erano scioperi, subbugli e tutto. Ma ricordato che sono oltre 120 milioni di euro per interventi a medio e lungo termine che la provincia di Teramo ha messo in campo grazie a dei fondi straordinari. Sono progetti a lunghissimo termine perché parliamo di ricostruzione pesante però era importante che chi oggi studia, chi oggi frequenta i nostri plessi non avvertiscono il disagio di una mancanza di un'aula, di una sedia. Abbiamo innovato tantissimo il parco dei banchi, delle sedie. Vogliamo che a fianco della ricostruzione che sta partendo dare meno problemi a chi cerca di studiare per un futuro migliore. Durante l'incontro è stato anche affrontato il problema del caro energia. E qui io sono contrariato non con la mia provincia, non con i miei dirigenti ma con lo Stato italiano che prima di fare delle scelte scelerate, che era quella della guerra oggi si accorge che forse ha generato un problema energetico su tutto il territorio nazionale. Adesso dobbiamo capire come muoverci anche noi perché abbiamo spese folli senza che lo Stato ci ha rendi contato con le spese che abbiamo sostenuto però dobbiamo capire ancora come muorci.